Musica Bentornato Cutler, bentornata Ora continuiamo la descrizione del tuo desktop Hai conosciuto cartelle e collegamenti Ora passiamo all'opera, vediamo come si creano E' straordinariamente semplice Come puoi fare? In una zona libera del tuo desktop, clicca con il pulsante destro del mouse Si genererà un menu più o meno ampio Attenzione al menu Perché? Perché questo menu non è standard Nel senso che la sua tipologia, la sua lunghezza, le opzioni presenti Dipendono dal tipo di sistema operativo Dai programmi che installerai E comunque è tra l'altro personalizzabile Una volta che si è generato il menu Vai sull'opzione nuovo Comparirà un nuovo sottomenu Con un'altra lista Nella quale dovrai porre attenzione sulla scritta cartella O sulla scritta collegamento Infatti ti dovrai posizionare O sulla scritta cartella O sulla scritta collegamento A seconda di ciò che vuoi creare E clicca a questo punto con il pulsante sinistro del mouse Supponiamo che tu abbia selezionato cartella Si creerà sul tuo desktop Una cartella Denominata naturalmente Nuova cartella Che potrai rinominare a tuo piacere Digitando il nome più indicato Se invece hai selezionato collegamento Creerai un collegamento Un percorso per raggiungere il file O la cartella O un programma Per aprirlo ed eseguirlo Infatti si aprirà Nel caso in cui tu abbia scelto collegamento Una schermata del genere Nella quale Cliccando poi su sfoglia Andrai ad individuare Il file La cartella O il programma A cui dovrai creare un collegamento Si aggiungerà Una nuova maschera Con una nuova lista Di cartelle Programmi E file Dal quale Tu dovrai prelevare Il tuo collegamento Una volta selezionato Una cartella Un file O un programma Clicca pure su ok Si visualizzerà Questa schermata Nella quale dovrai Cliccare Su avanti In quanto il collegamento In questo caso Ad una cartella Denominata blog Sarà acquisito Ora potrai anche Cambiare nome A questo collegamento E al termine Cliccare su fine Avrai sul tuo desktop Il collegamento Che hai creato Che hai realizzato Un'alternativa Più rapida Secondo me Per creare un collegamento E partire dalla fine Ossia Dal file Dal cartella O dal programma stesso Infatti Aprendo Esplora Risorse Individuerai Il percorso Che ti porterà Alla tua cartella Ad esempio Dopodiché Cliccando Con il pulsante Adesso Del mouse Sulla cartella A cui dovrai Creare un collegamento Si aprirà Un menu Nel quale Dovrai Individuare La scritta Invia Invia Nel nuovo menu Che si creerà Seleziona Con il pulsante Sinistro Desktop Crea collegamento Non farai altro Che creare Sul desktop Un collegamento Diretto A questa cartella Quindi Dopo aver cliccato Sul pulsante Desktop Crea collegamento Si genererà Sul tuo desktop Il collegamento Alla cartella Che hai selezionato Se a questo punto Clicchi due volte Rapidamente Sul collegamento Che hai appena Creato Si aprirà Il file Il programma O in questo caso La cartella Che hai appena creato Se il collegamento Riguarda Un programma Un applicativo In sintesi Si avvierà Il programma stesso Vediamo quindi Come creare Una cartella In una zona pulita Del desktop Clicca Con il pulsante Destro Si genera Un menu Abbiamo detto Vai a selezionare L'opzione Nuovo E Clicca Con il pulsante Sinistro Sulla Icona Cartella Nascerà Un'icona Con la scritta Nuova cartella Che potrai Denominare A tuo piacere La chiameremo Cartella Di prova Questa cartella Ovviamente Sarà Completamente Vuota Puoi anche Cambiare La sua Forma Grafica Il suo aspetto Grafico Cliccando Con il pulsante Destro E selezionando Proprietà Si aprirà Una nuova maschera Nella quale Individurai La sezione Personalizza Nella quale Trovi Alcuni pulsanti Tra cui Cambia Icona Si aprirà Una nuova schermata Che ti permetterà Di scegliere Un'icona A te Più piacevole Cliccando Sull'icona Stessa E successivamente Per due volte Su ok Avrai cambiata La forma Grafica Della tua cartella Se ora Vogliamo creare Un collegamento Cliccando Con il pulsante Destro Del mouse Sempre in una zona Libera Selezionando Nuovo Ed ora Collegamento Si aprirà Questa schermata Cliccando Su sfoglia Si aprirà Una nuova schermata Dalla quale Potrai Individuare Il file La cartella Oppure Il programma Da te scelto Ne selezioniamo Uno Ad esempio L'ultimo video Che era stato Creato A questo punto Qui ci è evidenziato Tutto il percorso Per creare Un collegamento A questo video Dopodiché Cliccando su avanti Puoi decidere Se rinominare Questo collegamento Oppure lasciarlo Come viene visualizzato Cliccando su fine Avrai Un collegamento Diretto In questo caso Specifico Alla lezione Numero 59 Se clicchi due volte Rapidamente Sul collegamento Si aprirà Il programma Che ti permetterà Di visionare Questo specifico File In questo caso Sarà La lezione Numero 59 Altra Metodologia Per creare Un collegamento In maniera Più rapida Andare direttamente Sul file Qui per rapidità Ho aperto Direttamente Il file Al quale dovrò Creare il collegamento Cliccando Sul file stesso Con il pulsante Destro Andando Sull'opzione Invia A E di nuovo Desktop Crea collegamento Immediatamente Chiudendo questa schermata Troverai Il file A cui sarà stato Creato il collegamento E a cui tu Potrai Cambiare anche Il nome Sul desktop C'è dell'altro? Beh, certamente Ci sono Altri icone E soprattutto Ad esempio Una barra Barra chiamata Delle applicazioni Degli strumenti E la Sistrei Ma di questo Ce ne occuperemo Dalle prossime lezioni Ora un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E dalla prossima Grazie ! Perchetti bientôt Sì Grazie a tutti Sì